Per il bene della scuola in cui tutti noi quanti crediamo e viviamo quotidianamente. E' uno sciopero che riguarda il personale docente, il personale docente di ruolo e non di ruolo, il personale alta di ruolo e non di ruolo e anche i dirigenti scolatici perché anche loro insomma hanno qualcosa che nemmeno per loro va bene. Quello che lo so però sarà, manderemo l'occasione dei dettagli nei prossimi giorni tramite mail agli iscritti, nelle pacchette delle scuole, sui giornali in cui daremo indicazioni di merito. Ma sostanzialmente faremo una manifestazione pacifica qui alla preventura di Crotone giorno enti e ovviamente siete tutti quanti invitati a partecipare. Passo la parola a Gianna se c'è qualche intervento in più prima di... Ma perché bisogna fare un percorso? Il percorso noi l'abbiamo già iniziato lo scorso anno, non è iniziato da oggi. La lotta contro quella che è la buona scuola, noi l'abbiamo iniziato lo scorso anno. Dallo scorso anno abbiamo fatto, da ottobre, assente in continuazione. La mobilizzazione bisogna continuare a portarla avanti su tutti i fronti e tutti i modi possibili che è una società civile che consente di fare. Quindi senz'altro tenere attra l'attenzione su quelli che sono i problemi della scuola. I danni che ha provocato, c'è il set che sta provocando, li sappiamo tutti. I danni che non soltanto per l'anno della scuola, ma in una pubblica amministrazione che stanno, che purtroppo stiamo volendo quotidianamente, li conosciamo tutti. Noi dobbiamo portare per quello del nostro mondo, ovvero la scuola. Io capisco, però il 20 maggio, dal 21 maggio, poi si organizza un percorso? Aspetta, non si servono tutti. No, dal 20 maggio si organizza poi un percorso? No, vabbè, non c'è bisogno, mi serve. No, dal 20 maggio si organizza poi un percorso, dopo è il risultato del 20 maggio? Oppure avete già in programma qualcosa? Perché io dico che bisogna dare, per esempio, noi bisogna avere un percorso definitivo, in modo che uno possa anche rendersi conto della vera situazione positiva, no? Beh, di che, le guerre, le guerre sono fatte da più battaglie, ok? Queste non tre le battaglie che noi stiamo cercando di portare avanti. Come dicevamo prima agli amici colleghi, il giorno di 5 maggio, comunque lo sciopero in cui la missione è stata ben sostenuta, ben alta, siamo riusciti almeno in fase di alcune, a rimediare su alcuni problemi, perché è il governo che sta dando diritto, lo sappiamo. Continueremo a lotare. L'obiettivo è quello di portare avanti la lotta per il nuovo del contratto, fermo dal 2006, ok? Quello è il nostro obiettivo. Sappiamo benissimo che in questi giorni, che già sicuramente daranno a cello, che sono stati firmati dall'Amanico, come come si può fare, i compatti, i compatti sono stati firmati, non c'è più scusa, ok? Per non mettere in mano questo nuovo del contratto, vogliamo il contratto rinnovato, sia nella parte economica, soprattutto perché è fermo da ben sette anni oramai, che nella parte giuridica, perché le incursioni, come dicevamo prima i colleghi, di Dito Merta e della Cente Sette e di varie norme, anche nella finanziaria, in legistabilità, all'interno del compatto scuola, ha snaturato quello che è il nostro contratto. Noi dobbiamo portare nel contratto quelli che sono i nostri diretti all'affidatore, ok? Hanno legalizzato l'illegalità. Hanno legalizzato, noi dobbiamo portarla per portarla sui binari giusti. Questo è il nostro obiettivo, ok? Grazie.